ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti tra detersivi ammorbidente e tutto quello che ne viene della pulizia sia della persona che della casa allora stavamo dicendo questo è un video più che altro tra detersive e tante altre cose qui ho la bottiglietta vuota ma per farvi capire il prodotto che vi faccio vedere dopo allora cosa vi faccio vedere per prima vabbè io ho fatto una piccola spesa sia per quanto riguarda acqua e sapone che vi faccio vedere in un altro sacchetto poi sono andata dai cinesi questi li ho presi dai cinesi perché mi trovavo dovevo prendere delle cose e li ho preso e li ho presi ho preso il detersivo dei piatti questo qui il nelson mi ci trovo benissimo e quindi lo acquisto sempre di solito acquisto diversi diciamo profumazioni e questa è l'ultima che ho preso perché ho preso anche quella con l'arancio e tutto quindi questa è l'ultima poi qui c'è un bagno doccio se non mi sbaglio è sì un doccio a schiuma questo qui l'ho preso perché i miei figli sono andati in vacanza e uno di loro Andrea che doveva stare due giorni gli ho dato la bottiglietta questa qui piccola perché gli serviva per due giorni invece Carmelo doveva stare di più quindi li ho comprato quella grande ma già se l'è portata e quindi già l'ha finita queste ne avevo comprate due poi un'altra cosa che avevo comprato è questo ed è un bagno doccia ha un profumo pazzesco mi piace mi piace fargli cambiare la profumazione per quanto riguarda bagno schiuma e tanti altri perché quando mi abituo con lo stesso odore mi dà fastidio anche per quanto riguarda il bagno schiuma delle altre persone quindi li faccio cambiare spesso e a loro piace sinceramente cambiare non utilizzare sempre il solito bagno schiuma e quindi gli ho preso questo qui che è al miele e avena poi per quanto riguarda invece il mio bagno schiuma che sarebbe queste nelle bottiglie così però ho preso altre profumazioni io sto parlando del bagno schiuma questo qui spuma di champagne che vedete l'abbiamo finito ce l'ho finito e mi piace tantissimo e quindi ho voluto prendere la ricarica questa l'ho presa all'Ocean se non mi sbaglio e ho preso questa qui eco ricarica a meno 70% di plastica ed è un bagno doccia idratante e tutto ed è al latte di mandorla e burro di carité e devo dire che mi piace tantissimo la profumazione è ottimo e quindi l'ho voluto prendere e se non mi sbaglio ho preso anche il sapone per le mani però adesso vedremo poi un altro eco ricarica che ho preso questo dovrebbe essere quello per le mani se non mi sbaglio sì ho preso il sapone per le mani e ho preso questo qui della fresh and clean ed è all'olio di argan fa un profumo pazzesco siccome io ho diversi erogatori per quanto riguarda il sapone perché ne ho uno qui nel lavandino dove lavo i piatti uno nel bagno e uno nel bagno sotto quindi e poi ce n'è un altro nel garage quindi io utilizzo spesso queste ricariche perché chiunque viene tipo nel garage hanno la possibilità di lavarsi subito le mani quindi li tengo dappertutto e devo dire che con queste ricariche mi ci trovo bene perché li riempio e il dosatore è sempre lo stesso risparmio pure in poche parole poi ho preso una maschera per i capelli e ho preso questa qui della ultra dolce di Garnier e questa è una maschera yogurt idratante e intensa allora io ho preso questa qui idratante perché ho i capelli secchi anche loro sono secchi e quindi no anche loro almeno loro sono secchi e questo è al latte di mandorla ed è nutriente mi piace perché oltre alla profumazione che l'avevo già sentita e quindi mi piaceva è il fatto di essere adatta a capelli proprio sfibrati non proprio sfibrati come si dice ah capelli disidratati perché anche essendo che io non bevo tanta acqua anche i capelli ne risentono tanto e quindi automaticamente l'unica cosa diciamo che mi serve di più in assoluto è idratarli quindi nutrirli e quindi ho preso questa qui ed è dell'ultra dolce di Garnier l'ho sempre detto questa qua ed è buono io già l'avevo utilizzata in passato e quindi l'ho ripresa poi per finire vi faccio vedere cosa ho acquistato dei cinesi questi sono degli elastici che voi potete mettere tipo io spesso faccio degli scignonne oppure faccio delle codine e mi piace metterli proprio questo nella codine e far sì che scendano queste diciamo questo fularino ed è molto carino e l'ho preso con questa fantasia che mi piace tantissimo poi ho preso questa qui che ha del blu e del giallo che è molto molto bella vedete com'è potete fare due tre giri e poi vi scendono queste due laccetti sono molto molto carini e poi ho preso questo con il blu perché mi piaceva tantissimo sono molto molto carini come elastici non sono strettissimi e quindi sono ottimi per fare questa diciamo questa capigliatura poi un'altra cosa che vi faccio vedere siamo stati in una libreria perché volevo prendere delle cose per prima cosa questo che è un libro per una dieta zona dicono che sia ottima per le persone diciamo che devono dimagrire in determinate zone del corpo e quindi l'ho voluto prendere non so com'è perché ancora non l'abbiamo letto perché servirà sia per me che per la mia amica e quindi l'abbiamo acquistato e poi diciamo controlleremo quello che c'è scritto all'interno e ovviamente inizieremo il nostro percorso perché voletevi bene io mi voglio bene quindi voglio cercare di mangiare bene perché qualsiasi cosa io mangio io anzi un po' meno ma la mia amica qualsiasi cosa mangia lei sta male tipo se mangia la pasta però non è intollerante al glutine se mangia tipo il panino non lo digerisce e tante altre cose quindi vogliamo trovare una posizione anche per mangiare diciamo più sano e più pulito e io per aiutarmi ovviamente ho preso il diario questo qui dell'alimentazione e quindi voglio provare a scrivermi tutto quello che devo mangiare tutte le cose che mi servono così da facilitare diciamo il fatto di questa dieta e questa è un'altra cosa poi aspettate che vi prendo il sacchetto sempre per quanto riguarda i cinesi siamo stati a Catania ci servivano determinate cose e siamo entrate e abbiamo preso questo ammorbidente del più soft ed è un night in blue ed è un ammorbidente concentrato si chiama Infinity allora la profumazione è pazzesca cioè ma veramente mamma mia fa un profumo di fresco che non avete idea è ottimo buonissimo e quindi l'ho voluto prendere il prezzo era se mi sbaglio basso e quindi l'ho preso questa è un'ottima ottima profumazione già prende il tappo si sente un profumo che rinfresca tutta la stanza si può dire e infatti ne ho presi due perché mi piace poi aspettate che vi esco le cose poi come vi ho detto poco fa per quanto riguarda il Nelson dei piatti ho preso anche questo che è questo qui all'olio di argan invece questo qui è ai carbone attivi quindi aspettate questi questi qua uno ai carbone attivi e uno all'argan e quindi io cambio sempre non mi piace la stessa profumazione perché vi ho detto che mi dà fastidio poi ho preso queste cuffie ho preso queste cuffie perché io avendo tantissime cuffie ma chissà perché vanno a finire sempre nelle mani dei miei figli chissà perché chissà perché e niente comunque le ho dovute prendere perché sinceramente non avevo nessuna cuffia ne avevo 4 o 5 adesso non ne ho nemmeno uno quindi l'ho voluto prendere nera semplice queste mi piacciono di più perché sono quelle che si infilano proprio dentro l'orecchio e mi piacciono di più non mi fanno male quindi le ho prese poi ho preso due accessori e questi ovviamente li ho presi anche per i miei figli ho preso questi cosa sono? questo è quello di mio figlio perché ne ho presi due neri che già uno Carmelo già ce l'ha in uso e uno fucsia per me e sono ve lo faccio vedere sono dei porta cellulare queste voi mettete appoggiate il cellulare qui e lo potete portare in qualsiasi posto questo è il piano e di qua non si muove perché ha queste gommine che trattengono il cellulare ed è ottimo non mi ricordo anche le gommine qua sotto non mi ricordo quanto è venuto perché se mi sbaglio 99 centesimi un euro però non sono sicura in caso ve lo scriverò poi ho preso dei colori a matita perché a Lidl avevo preso delle agende e alcune agende si colorano anche per passare il tempo e tutto e quindi ho voluto prendere i colori a matita e poi per finire ho preso tre cerchietti tre e uno me l'ha regalato la mia migliore amica che è questo allora prima mi ha preso questo con le orecchie da gatto con gli stressini e tutto ed è questo così e poi invece dai cinesi abbiamo preso questi tre e dove ce n'è uno nero che non si vede vabbè uno nero uno blu e uno rosso vedete sono molto molto carini mi è piaciuto tantissimo e quindi li ho voluti prendere ditemi ovviamente se vi piacciono queste cose a me piacciono tantissimo e quindi li ho voluti acquistare per quanto riguarda questo video è tutto perché già è pieno pieno adesso farò credo Lidl e per quanto riguarda acqua e sapone perché tutto in uno non ci entra perché già la scheda mi sta lampeggiando perché è piena quindi devo scaricare la scheda e tutto vabbè vi farò un altro video per quanto riguarda acquisti di detersivi e cose per la casa per quanto riguarda questo video io vi saluto vi mando un grossissimo bacio come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao